Signore e signori, buonasera. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina nel templi con una delori? Ah, senti! Hai mancato la linea! Quella non è stata opera di un emile, è stato uno squalo. Grande giove! Io sono Spartaco! Io sono Spartaco! Quando ami una persona, devi fidarti di lei, altrimenti a che serve? Chi è? Oh no, cazzo! Si prepari, fra poco ci verrà mostrata la mia. Com'è la signora? Oh no, cazzo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.